Una vittoria per tutta la città, questa è la reazione del sindaco alla notizia della decisione del governo di vietare la messa in funzione del deposito GPL di Chioggia. Abbiamo avuto la conferma che si trova nella collocazione sbagliata, troppo a ridosso del centro abitato, delle case, in un porto che ha una vocazione commerciale, ma soprattutto in un sito UNESCO. UNESCO è stata questa la parola magica inserita nel decreto governativo, nei siti riconosciuti dall'UNESCO, leggi Laguna di Venezia, impianti già autorizzati ma non ancora attivi non potranno entrare in funzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!